ciao a tutti ragazzi e ragazze buona pasqua quando starete guardando questo video sarà il giorno di pasqua ora chiaramente non mi aspetto che lo guardiate in tanti perché mi auguro che in questa giornata starete con le persone più vicine a voi che vi vogliono bene e che soprattutto vi vogliate bene fra di voi che è la cosa più importante perché trovarsi nelle feste solo per il gusto di vedersi perché una festa è una stronzata infatti io cerco di vedere le persone di più fuori dagli eventi normali di routine perché se si ha voglia di vedere una persona è meglio vederla fuori da questi eventi questo è il mio pensiero comunque vi faccio tantissimi auguri spero che stiate bene spero che stiate guardando questo video quando siete tranquilli per i fatti vostri quindi non c'è fretta il bello dei video su youtube e che si possono vedere quando si vuole la mattina presto il giorno dopo una settimana dopo un mese dopo la notte quando volete comunque io non volevo mancare questo appuntamento spero che si senta bene il microfono perché purtroppo ho questo questa giacca che non me non me lo fa stare molto molto bene addosso comunque allora non volevo mancare nella giornata di oggi anche se ho scelto magari delle domande che possono sembrare semplici ma secondo me possono aiutare molti moltissimi allora innanzitutto voglio ricordarvi una cosa venerdì della prossima settimana quindi i due video settimanali non mancheranno scusate i due video settimanali non mancheranno quindi sia il martedì che il giovedì ci sarà il nostro appuntamento normale con i video soliti nella serata di venerdì dalle 21 alle 22 faremo una diretta non ho ancora il tema di questa diretta però come abbiamo sempre fatto è un modo per stare insieme quindi se avete delle domande degli spunti qualcosa me lo scrivete nella mail gabrie solo ed esclusivamente in questa mail gabriele chiocciola gas e automobili punto it nel nel nell'oggetto della mail mi scrivete diretta di venerdì perché le mail arrivano per la puntata della domenica che è quella che state guardando per le domande in generale che mi fate quando posso rispondo e soprattutto in questo caso per la diretta quindi se voi mi scrivete sopra nell'oggetto di che cosa sta parlando la mail vedo se aprirla prima o dopo perché la diretta io dovrò siccome tutte le sere io sono via perché sono a fare gli allenamenti devo guardare di sera tardi quindi capite che se voi nell'oggetto mi scrivete che cosa tratta la mail evito di aprirmi 200 mail quindi aprirò ovviamente quelle prima quelle per la diretta di venerdì poi non è detto che si possa si possa trattare tutto quello che mi scrivete però se si scrivete delle domande dei temi o delle cose particolari cercherò di scegliere qualcosa di carino da poter parlare discuterne assieme ok quindi vi ringrazio molto gabriele chiocciola gas e automobili punto it quindi questa è la prima cosa intanto nel frattempo arrivano le mail in tempo diretta intanto che che cerco di leggere le altre so che non c'entra niente allora questa ragazzi è una questione molto molto importante e una volta era l'ordine del giorno questa cosa anche perché non c'erano i certificati di proprietà digitale non c'erano le visure che si potevano fare online come si fa adesso era allora si poteva fare tutto però diciamo che era più meccaninoso trovare questo problema parliamo di fermi amministrativi attenzione allora la mail dice questo puntata dalla domenica auto conferma amministrativo viaggio no stefano scusate la mail si chiama viaggio per lui si chiama stefano ciao gabriele sono stefano di reggio emilia e ti scrivo perché tempo fa sono stato attratto da un annuncio di un'auto in venita sulla quale gravava un fermo amministrativo la legge italiana dice che non si può utilizzare su strada però si può vendere la cosa più assurda è che il fermo amministrativo viene applicato in qualsiasi momento all'insaputa della persona interessata e cosa ancora più grave è che l'assicurazione non copre in caso di incidente ma è proprio così ti è mai capitato di avere a che fare con una situazione del genere un saluto a te al tuo staff e una carezza delta stefano il motociclista del canale allora facciamo molta chiarezza allora innanzitutto non è vero che ti viene applicato all'insaputa della persona interessata questo non è assolutamente vero te lo dicono a te il fermo amministrativo viene prima arriva una cartella hanno innanzitutto devi avere dei carichi devi avere della situazione che non è il massimo della vita perché non è che applicano un fermo amministrativo così ad cazzum ok quindi devi avere o bolli non pagati multe non pagate tasse non pagate quindi devi avere non è che uno per una multa all'istante ti mettono un fermo amministrativo assietto che se non la paghi per due anni o un anno e mezzo tre il problema ce l'hai prima ti deve arrivare una notifica di fermo amministrativo tramite raccomandata ho avuto segnalazioni di persone vecchio trattando automobili questo per me è non dico l'ordine del giorno ma quasi poi auto vecchie ancora di più ho avuto a che fare con persone che mi dicono che non gli è stata notificata la cartella di fermo amministrativo ragazzi io questa cosa non la posso dire perché naturalmente non abito a casa delle persone non gestisco un ufficio postale e non lavoro grazie al cielo all'agenzia delle entrate quindi non vi so rispondere se è vero non è vero io per quello che so di solito inviano sempre delle notifiche quindi non è una sorpresa il fermo amministrativo anche perché io sto acquistando una macchina adesso non voglio dire niente perché è particolare non è una macchina che valga tantissimo però è particolare ferma nel box da molti anni e la sto comprando lui è vivo e la sto comprando dai figli di quest'uomo che non guida più però loro avevano già ventilato l'idea che la macchina potesse avere un fermo io ho fatto la visura la macchina non ha fermi quindi di conseguenza se voi fate la visura il giorno la visura dura 24 ore scusate dura il giorno solare quindi se voi la fate alle 8 di mattina fino alle 19 di quel giorno lì la visura è a posto questo ve lo dico come a titolo personale di conseguenza fate la visura quel giorno voi quel giorno potete fare il trasferimento di proprietà anche se sull'autovettura è già arrivata la notifica quindi però voi al momento siete ignari di questa cosa ok perché voi siete la parte lesa siete la parte che sta acquistando l'automobile nel caso in cui a quell'altro gli fosse arrivata la notifica poi sarà lui che faranno una rivalsa o metteranno il fermo da un'altra parte l'importante è che voi facciate la visura e che al momento della visura la macchina sia libera da vincoli e gravami qui certo che se fate la visura e fate il passaggio quattro giorni dopo potreste avere un problema anche perché quando si firma il passaggio di proprietà c'è una clausola che dice che il venditore dichiara l'auto è libera da vincoli e gravami però il passaggio di proprietà se la macchina un fermo va avanti poi ci sono due scuole di pensiero che non mi permetto di giudicare ma vi dico che esistono anche perché siamo in italia quindi le cose tendono un po a galleggiare comunque ci sono due scuole di pensiero la prima è che il fermo amministrativo segue l'auto ma è relativo a dei debiti della persona questo però vale fino a quello che c'è il problema ce l'ha l'automobile l'altro invece dicono che il problema segue l'automobile per me il fermo segue l'automobile quindi se io vendo un'automobile con un fermo amministrativo e mi accordo con il venditore col compratore che lui deve pagarsi il fermo il fermo segue l'automobile e il vecchio proprietario se ne libera attenzione voi parlo dell'acquirente quando acquistate una macchina con un fermo amministrativo 8 su 10 lo prendete in quel posto perché ricordatevi sempre che viviamo in italia ora io non sto dicendo che gli altri paesi siano meglio io vi dico come va il mio ok il nostro paese è un maserati biturbo prima serie a carburatore fermo da 25 anni usato alla cazza di cane spero che sia un bel quadretto ok quindi uno che cosa fa gli piace una macchina la macchina ha un fermo amministrativo che bello faccio una visura guardo la visura ci sono due fermi amministrativi perché i fermi amministrativi non vengono notificati dall'agenzia delle entrate ma c'è un ente preposto che raccoglie i debiti che abbiamo lì così di questa persona metti che uno abbia preso cinque molte il comune fa non è il comune stesso che mette il fermo c'è un'agenzia che lo fa quindi uno ha due fermi amministrativi ok uno di sto sparando 450 euro e uno di 750 euro tu dici che bello io sommo i 750 euro più i 450 euro che sono 1200 euro sì giusto sono ancora contare sì dici che bello io gli do metti che la macchina valga 10 gli tolgo i 1200 euro del fermo gli do 8800 euro nine 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 quindi tutto sbagliato questo è l'errore più grosso che potete fare diciamo che vi va bene una due volte su dieci questa cosa perché innanzitutto prima cosa leggere le visure leggere la data del fermo amministrativo di solito di solito io non posso sapere tutte le situazioni di tutte io vi dico la media quindi di solito persone che hanno il fermo amministrativo non ce l'hanno da due tre giorni ma ce l'hanno da un anno due anni tre anni quattro anni o forse di più attenzione perché magari la data di iscrizione del fermo amministrativo a tre mesi ma le cartelle a cui fa riferimento il fermo amministrativo stesso sono del 2019 per esempio no ok quindi c'è la data di trascrizione del fermo ma siccome noi siamo in italia arriva molto dopo ma sotto c'è la data a cui fa riferimento più o meno il periodo qual è il problema che molto spesso e volentieri vi direi quasi sempre la cifra notificata si riferisce a neanche tutte alcune delle motivazioni del fermo del 2019 quindi abbiamo due problemi uno che da sto dicendo 2019 perché adesso avevo fatto una visura poco tempo fa e mi ricordo questa cosa del 2019 comunque uno è che dal 2019 al 2024 quando sono state notificate siano sicuramente lievitate e questo è sicuro come loro seconda cosa che ci siano delle altre multe oltre a quelle che non mi chiedete il motivo ma non sono ancora state notificate ma in realtà c'è già il procedimento in esso per poterle mettere su ergo voi andate perché l'ho fatto io questo errore l'ho fatto io sempre in termini quando vi parlo di esperienza anche se ho 41 anni io faccio queste cose da quando avevo 18 quindi ero un ragazzino ero un bambinetto in mezzo ai lupi perché adesso lo fanno tutti all'epoca non lo faceva nessuno ok adesso non voglio essere più bravo degli altri però potrei insegnare a gente molto più grandi di me ma non lo faccio cerco di fare queste puntate gratuitamente per aiutare tutti perché so cosa vuol dire trovarsi in difficoltà io non ho avuto aiuti e non è stato bello detto questo ho pagato con le mie tasche mi ricorderò sempre era un audi a8 facevo il come secondo lavoro facevo il venditore di auto sempre fatto io oltre che fare il meccanico compravo e vendevo qualcosa di particolare che mi piaceva considerate che la macchina era un prima serie ma era una macchina abbastanza recente vi sto parlando la macchina era del 95 96 ma vi sto parlando del 2005 2006 2004 la macchina non aveva neanche 10 anni era una macchina recente comunque mi ricordo compro questa macchina ci mettiamo d'accordo con la cifra faccio la visura cartacea naturalmente in agenzia c'era un fermo amministrativo di eravamo già in euro perché l'euro è apparito il primo gennaio 2002 non mi ricordo se 1208 euro o 2208 euro comunque era una cosa del genere quindi io che cosa faccio da persona ignara faccio il prezzo della macchina da commerciante tolgo l'importo del fermo dico benissimo faccio il passaggio il dini a nome mio c'era già il dini sì c'era già il mini passaggio non c'era già più la procura perché prima c'erano le procure comunque va bene faccio già il dini mi intesto la macchina vado all'agenzia delle entrate a pagare quindi con la mia bella visura in mano loro tra l'altro l'agenzia delle entrate all'epoca era ancora sesto io lavoravo in officina quindi prendo qualche ora di permesso vado lì e questi mi stilano la storia di sta macchina quindi quello che c'era dietro sta macchina qua di fermi amministrativi segnati mi ricordo erano due due scusate uno era riferito a una o più tasse di circolazione l'altra invece non c'entrava niente con l'automobile ma c'entrava con la persona ed erano tipo degli f24 o della pattumiera c'era qualcosa di tasse non pagate non c'entrava niente con la macchina va bene allora facciamo la visura e mi tirano fuori qualcosa come 5.400 euro mi è venuto freddo mi è venuto freddo dico che cazzo come mai questa cosa perché io la visura in mano faccio guardi perché sono state notificate non sono state ancora trasferite sulla visura però al momento in cui lei vuole pulire la macchina deve pagare questo o fare la dilazione di pagamento perché facendo la dilazione di pagamento il fermo viene eliminato tu fai paghi le prime due o tre tranche il fermo viene cancellato ma devi comunque pagarle naturalmente ora siccome io non volevo rogne perché un altro mi ha detto no paga le prime due tre tranche poi demolisci per export la macchina non hai più rottura i coglioni allora ho detto no non me la sento di fare così perché sono sicuro che lo prendo in quel posto vendi la macchina insomma c'era una procedura del genere detto questo il fermo era mi ricordo che era mi ricordo 5.500 euro 5.000 euro era più del doppio forse il triplo di quello che c'era scritto chiedo spiegazioni ma chiaramente l'oblio no quando chiedi le cose va bene anche perché uno mi ricordo che uno dei due che era segnato c'era ancora ma al posto che 700 erotti era diventato 1.800 erotti lo stesso proprio perché era una cosa vecchia ed era lievitata all'epoca si poteva ancora radiare per esportazione una macchina col fermo amministrativo questa legge è stata tolta nel 2011 perché cosa faceva la gente demoliva le macchine cioè allora la demolizione scusate la demolizione in generale sia la demolizione per esportazione sia la demolizione per rottamazione quindi il cubetto era consentita con il fermo amministrativo ma si sono accorti lo stato che non incamerava nulla giustamente allora ha detto non radiamo più le macchine all'epoca si poteva ancora fare io ho svenduto la macchina perché naturalmente quella macchina lì all'estero valeva molto meno perché non aveva molti chilometri era una macchina da mercato italiano valeva molto meno di quello che aveva potuto prendere in italia ma non ci ho smenato così tanto come pagare il fermo e venderla in italia quindi ci ho smenato ma non così tanto alla fine è stata una vendita buca ci ho perso qualcosa ho limitato la perdita perché si poteva ancora radiare per export da quel giorno lì ho le macchine col fermo le guardo col binocolo e le lascio là ok attenzione a questa cosa detto questo perché vi dico questo perché non si potevano dopo non si potevano più radiare le macchine per esportazione perché dicono no una macchina col fermo tu non puoi radiarla paghi il fermo e di andare c'è una legge che ti permette di demolirle quindi non per esportazione demolirle quindi farle stiacciare ci sono dei soldi da pagare si paga un po' di più nel caso in cui la macchina non sia in grado di circolare di viaggiare insomma bisogna dimostrare che la macchina sia oggettivamente un relitto e non era il mio caso naturalmente sia oggettivamente in quanto lo stato non ci guadagnerebbe nulla perché non la venderebbe mai e loro vorrebbero solo l'ottamario in quel caso lì si paga qualcosa e si schiaccia la macchina questo lo dico a titolo informativo comunque chiuso il discorso in quel caso lì io ho limitato i danni ho svenduto la macchina da quel giorno io le macchine col fermo basta quindi mi interessa eventualmente una macchina con fermo amministrativo le soluzioni sono due faccio una visura gli arriva una cartella a questa persona quindi questi stanno già ventilando l'idea che hanno un fermo amministrativo anzi più che ventilando lo sanno faccio una visura la macchina è pulita io vado a fare il passaggio di proprietà se al momento dell'atto di vendita la macchina è pulita il fermo è nullo quindi se lo mettono tre giorni dopo se lo infilano in quel posto perché quello che fa fede è la data dell'atto di vendita questa è la prima cosa oppure mi interessa una macchina faccio una visura c'è un fermo amministrativo benissimo gli dico ragazzi pagatevi il fermo io aspetto dopodiché vi compro la macchina non voglio problemi e vi sconsiglio di portarvene a casa perché sulla carta andrebbe benissimo uno legge con la visura quant'è l'importo dice ok l'importo è mille euro benissimo ti aggiungo 200 euro di rotture di coglioni perché bisogna andare all'agenzia delle entrate farselo cancellare ristampare il cdp quindi c'è un po di trafila mi devi dare qualcosa a meno che ammesso che non voglia farlo tu dice ok questo è un mondo perfetto il problema che voi fate la visura ma il fermo non è quasi mai dico quasi mai perché la verità non si può mai sapere non è quasi mai l'importo riferito nella visura mai quasi mai quindi attenzione a questa cosa e attenzione anche alle demolizioni perché questa cosa qui è vincola anche le demolizioni stesse quindi spero di averti risposto tutto lui mi fa anche delle altre domande la macchina non può viaggiare su strada attenzione che qual è il problema non può viaggiare su strada loro te la fanno assicurare perché noi viviamo in un paese fantastico dove tu fai il trapasso quindi ti permettono di fare il passaggio di proprietà già lì è assurdo ma comunque va bene perché uno potrebbe accollarsi il debito per loro no benissimo ti accolli il debito non paghi il fermo assicuri la macchina te la fanno assicurare hai un sinistro basta non ti pagano oppure ti ferma la stradale per un controllo normale se ti fa la visura in un attimo lo vedono basta ti aspettate che si è sparito il salvaschermo basta la macchina non può circolare quindi avete tre problemi in uno io ve lo sconsiglio vivamente ora poi faccio un esempio tutta la gente che vive la sua domanda non era riferito a quello che sto parlando io lui si sta riferendo a quelli che mettono gli annunci di macchine con i fermi senza passaggio come quando fanno vedere a striscia ecco vabbè lì quelli sono da usare come bersagli quindi non queste cose qui editiamole io vi sto parlando di un acquisto giusto fatto di una macchina con un fermo magari di una persona che è realmente ignara in questo caso e vi ho spiegato un po come deve essere la cosa ora cambiamo discorso completamente questa è una mail che mi è venuto freddo leggerla è una cazzata però l'ha scritto un un operatore del settore ciao gabrie ho seguito il tuo ultimo video della domenica quindi parliamo di 15 giorni fa perché l'altra domenica non l'ho fatto no ho sbagliato l'altra domenica l'ho fatto sì ho sbagliato era quella prima che non l'avevo fatto comunque mi sono confuso ciao gabrie ho seguito il tuo ultimo video della domenica volevo darti delle informazioni per quanto riguarda il tipo che voleva recuperare i liquidi all'auto io ho un'auto demolizione e ultimamente i meccanici sia regolari e non ci vengono a chiedere l'olio freni e liquidi di raffreddamento per poi travasarli su confezioni nuove usate in precedenza così facendo fanno credere al cliente che passa in officina per qualche giunta o rabbocco che è materiale nuovo appena aperto il gioco sta che il demolitore risparmia sullo smaltimento e l'officina sul materiale il cliente paga come nuovo e il gioco è fatto io spero che una cosa del genere non sia vera se la scritta evidentemente lo è allora innanzitutto credo che sia di una bassezza pazzesca allora il paraflu quindi l'antigelo io lo chiamo paraflu perché sono mamma fiat allora noi cambiamo l'antigelo praticamente sempre e c'è lo smaltimento noi paghiamo lo smaltimento dell'antigelo c'è un bidone a parte che non è quello dell'olio è un altro l'olio non si paga lo smaltimento cioè paghi il camion che te lo viene a prendere ma lo smaltimento dell'olio in sé non si paga il paraflu lo paghi lo paghiamo scusami detto questo a me è capitato anzi col mio lavoro di queste macchine mi è capitato moltissime volte di recuperare dell'antigelo buono cioè buono a vederlo bello ma io dico ma cazzo ma quando una persona va a farsi fare una giunta ma non lo vedi che il paraflu non è nuovo a parte il fatto che ci sono una marea di meccanici che utilizzano ancora anche perché io quando andavo a prendere i ricambi fino a qualche anno fa adesso me li portano tutti andavo a prendere anche qualche ricambio fisicamente dal ricambista quando mi sapeva qualcosa fino a qualche anno fa vedevo i meccanici che prendevano il paraflu nei barattoli diluito ma poi lo prendevano volta per volta cioè prendevano faccio un esempio 4 litri d'olio 4 litri di paraflu e i filtri dico cazzo ma fai il meccanico non hai in casa l'olio e il paraflu meccanici eccola tutta da meccanico poi lui ha detto una cosa molto san molto giusta ultimamente i meccanici sia regolari e non quindi ci sono molti meccanici che giocano a fare i meccanici alle spalle degli altri in nero nel box ma più che loro il problema sono la gente che gli porta le macchine che sono peggio di loro ok questo lo dico proprio apertamente quindi leggete il mio video guardate il mio video e quello che vi dico è realtà ok sono peggio di loro detto questo io dico ma quando tu metti dentro il paraflu non ti accorgi che il paraflu è vecchio ma si vedrà un paraflu nuovo da un paraflu vecchio comunque sia c'è una marea di meccanici che compra l'olio e il paraflu volta per volta proprio perché secondo me molte volte li segna il paraflu anche quando non gliel'ha cambiato posso pensare a questo ma uno che vada a rottamaio a prendere l'olio dei freni ma cazzo l'olio dei freni diventa nero immediatamente ma poi costa una cazzata non giuro non riesco non riesco a concepire una cosa del genere cioè poi soprattutto sulle bmw che se non cambi l'olio dei freni nelle z4 le serie 5 le mercedes con le sbc si bloccano solo a vederli quei cosi là tra l'altro c'è una procedura da fare col computer per spurgare l'impianto non ho parole grazie per la mail mi viene sempre più freddo e mi viene sempre da dire che viviamo veramente in un mondo di merda e che ci meritiamo le macchine elettriche dove quando arriveranno tutta questa gente qua i furbi non li farà più forse quindi mi dispiace parlare così però quando si dà una sforbiciata si becca anche le brava gente però ci sono troppe mele marce perché questa è la situazione è pazzesco cioè un rottamaio un meccanico che va da rottamaio per recuperare i liquidi vecchi ma probabilmente neanche nel nord africa lo fanno non lo so vabbè comunque cambiamo completamente discorso assistenza a reti ufficiali ciao gabri ti seguo da un annetto e mi sono messo in pari o quasi con la visione di tutti i tuoi video sempre like possiede una bmw z4 e 85 2005 del 2004 e desidero raccontare la mia esperienza con la rete ufficiale del marchio ho acquistato l'auto usata nel 2017 presso un autosalone di un commerciante della mia provincia racconto due episodi per i quali ho deciso di non rivolgermi mai più la rete ufficiale ma scegliermi un meccanico generico di fiducia e io aggiungo che conosca l'auto non l'ha scritto lui l'ho aggiunto io al ritiro dell'auto era un tiepido aprile e solo con l'avvento della stagione calda è emerso un fastidioso difetto allo sterzo in autostrada eseguendo gli spontanei micro aggiustamenti di direzione per mantenere una marcia rettilinea mi corgo che lo sterzo non è fluido ma si muove a piccolissimi scatti causando dei cambi di direzione superiori a quanto voluto di conseguenza continue e fastidiose contro correzioni di sterzata sempre con le braccia dure come il mio beato te vado su un forum di b b mers va bene spiegando il problema e mi rispondono benvenuto nel club il difetto congenito si chiama sterzo appiccicoso e si verifica per la mancanza di gioco tra la madrevite del servomotore elettrico e ruota dentata posta sul piantone dello sterzo questa mancanza di gioco si verifica in presenza di alte temperature estive e motore caldo per cui la ruota dentata che è di plastica si dilata ed ingrana sulla vite senza fine con interferenza creando il problema il rimedio descritto nel forum è la regolazione del gioco tra le due parti tramite un'apposita ghiera posta sul servomotore ho nozioni di meccanica e ho lavorato 20 anni nel post vendita ricambi e il tutto mi sembra sensato mi rivolgo quindi a un concessionario bmw con tanto di autosalone spiegando tutto quanto mi chiamano il capo officina che mi fissa con gli occhi sgranati e mi dice probabilmente ha ragione lo faccia lei perché per noi è prevista la sostituzione dell'intero piantone dello sterzo prezzo 3100 euro lavoro finito nel 2017 alla mia domanda e se il nuovo piantone presentasse lo stesso problema sempre sguardo fisso e occhi sgranati mi dice a ovvio lo cambiamo di nuovo in garanzia capisco saluto ringrazio e me ne vado tento con un importante concessionario di milano chiedendo di conferire con un tecnico del post vendita a fare fronte c'è una giovane e bella receptionist in completo nero che a copione predefinito dopo avermi chiesto il vin consulta il suo terminale e mi parla di intervalli di manutenzione a mia rinnovata richiesta mi ripete la stessa trafila non c'è verso c'è un muro di gomma capisco saluto contrariato e me ne vado decido per il fai da te smonto il carter in abitacolo sotto il piantone e con la testa incastrata tra acceleratore e freno vedo il servomotore e la ghiera che presenta due fori asolati e asolati ed eccentrici sui quali vanno a bloccarsi due viti a brugola la funzione del tutto mi sembra evidente dopo un paio d'ore di sgranamento di rosario ed emicrania per improbabile posizione non riesco a sbloccare le due viti per ruotare la ghiera manca lo spazio necessario per muovere le chiavi non mi arrendo e vado dal mio meccanico spiegando il tutto risposta mi sembra una cagata ma io sono certo che non è una cagata e mi congedo senza commentare a distanza di tempo ha capito che avevo ragione e quindi lo perdono mi rivolgo quindi a un bravissimo installatore di impianti gpl dal quale mi ho servito anni a dietro per una jeep 4000 benzina e mai più sentito che inaspettatamente mi dice dai vieni sabato mattina che vediamo gli chiedo solo di allentarmi le due viti la regolazione volevo farla io sblocca le viti non senza cristale e mi accomodo segno con una matita rossa la posizione originale della ghiera e la ruoto di 10 mm lui riblocca le viti e mi congeda con un sorriso elegante la prossima volta fatto un'ora a costo zero problema sparito secondo episodio dopo però vi dico una cosa secondo episodio mi rivolgo nuovamente al primo centro autorizzato bmw per una cosa facile facile avere dvd di navigazione aggiornati europa per la stessa z4 costo 300 euro avendo tre settimane e al momento di pagare a te no scusate attendo tre settimane e al momento di pagare l'addetto e ricambi mi sussurra a mezza voce se poi il nuovo capofficina quello con gli occhi sgranati in quella in pari scusate ho sbagliato attendo tre settimane e al momento di pagare l'addetto dei ricambi mi sussurra a mezza voce se poi non dovesse funzionare ma si tace subito mi blocco e dico beh se non dovesse se non dovesse funzionare mi rimborsate avete modello dell'auto e il vin lui no non si può ma comunque è difficile inizia così una cortese discussione stile alice nel paese delle meraviglie mi chiamano di nuovo il capofficina quello con gli occhi sgranati in quella imparo che quell'espressione il suo standard la sua teoria è che se i nuovi dvd non funzionano non è colpa degli stessi ma del lettore dvd che deve essere sostituito con uno nuovo sempre a 300 euro pare un prezzo unificato gli puntualizzo che il dvd presente nell'auto non è originale e ciò nonostante il lettore funziona violino non c'è verso lascio il dvd esco deluso ci tenevo ad avere dei dvd originali aggiornati mi tengo quello che ho quindi se tu montassi un ricambio incompatibile su un auto sappi che non è sbagliato il ricambio si deve sostituire l'auto altro aneddoto anni orsono parlava con un ex responsabile assistenza clienti in pensione di un noto marchio automobilistico non è bmw egli mi raccontava come facessero cambi olio in sede non in centro autorizzato non completi così da accantonare un barile all'anno per loro uso la mia personale ed opinabile conclusione a meno di auto nuove coperte da garanzie della casa preferisco trovarmi un meccanico generico del quale decido di fidarmi piuttosto di scontrarmi con la spersonalizzazione mancanza di elasticità e scarso orientamento al cliente imposto dalle rigide politiche aziendale delle rete ufficiali non sempre sinonimo di garanzia correttezza e competenza spero che il mio post trovi un senso nella tua apprezzabile rubrica un caro saluto e bravo marcello allora chiaramente una persona che ascolta questa mail ha perfettamente ragione io però voglio dire sempre una cosa perché la ragione non sta mai nel mezzo lui ha ragione io adesso non parlo del discorso dell'olio perché per me è una stronzata la parte finale anche perché l'ha dichiarato un'altra persona ma quello non lo posso dire perché non vivo in questa realtà ma le altre due cose le posso dire ora è ovvio che se tu vai in casa madre questi non si mettono ad allentarti farti il foro spor a spostarti la ghiera di plastica che cavolo di fattura ti fanno loro hanno manomesso un ricambio originale montato sulla macchina ma non esiste questi non ti montano allora un cerchio aftermarket facciamo un esempio stupido un cerchio ci sono dei cerchi aftermarket che sono buonissimi anzi direi la stragrande maggioranza in concessionaria non lo monteranno mai è la stessa cosa non è che il cerchio non va bene là non lo montano fratello punto ti pare che in bmw ti fanno una modifica perché giustamente io questo discorso del dello sterzo ce l'hanno in diversi e non ce l'ha solo la z4 ce l'ha anche la e46 qualche 92 purtroppo è un sistema un po del cazzo poi devi essere proprio con temperature per quello che mi è capitato a me molto elevate in situazioni abbastanza limite ma non voglio discutere il problema c'è dicevo io non l'ho mai modificata quella cosa di piuttosto dico va in bmw perché io quella modifica qua se dopo non funziona tu stai manomettendo qualcosa dell'organo di sterzo tutta la gente è contenta quando spende poco ma quando ha un problema ed è un problema serio fa presto a puntarti il dito e a collarti tutte le responsabilità anche quelle che non hai e non ti competono quindi in questo caso io prendo le difese di bmw perché loro dicono io ti monto il pezzo nuovo l'ha fatto la casa madre c'è un problema c'è la garanzia di casa madre fra due anni il pezzo si guasta lo ricambiano lo so che è sbagliato ma chi è che si prende la responsabilità di manomettere fare una modifica a un ricambio originale nessuno voi pensate che io ho un carissimo due carissimi amici che lavorano in questione bmw quando abbiamo bisogno di qualche consiglio loro magari mi chiedono qualcosa sulle macchine vecchie io gli richiedo molto su quelle più nuove che per loro sono già vecchi la modifica che non c'entra niente ecco la modifica dello sterzo questa è una cosa grave la modifica della scheda sam chiamiamola così che apre le portiere della bmw loro non le cambiano loro non le revisionano le centraline le cambiano le centraline dell'abs che si guastano della z4 che si guastano solo a guardarle non le revisionano le cambiano ma costano 10 volte con 5 6 volte tanto cambiarle non gliene frega niente non vogliono dispiaceri non vogliono responsabilità inutili parliamo di una concessionaria hanno degli standard completamente diversi il fatto del dvd questa diciamo che non c'è un problema di sicurezza loro se ne lavano le mani dicono questa cosa qua però capitava anche in lancia quando c'erano gli aggiornamenti della tesi sono arrivati fino al dicembre del 2010 la macchina è stata uscita di produzione nel 2008 quindi posso immaginare due anni dopo e lancia se ne lavava le mani se l'apparecchio non funziona ragazzi io ti vendo il dvd se non va più è un problema tuo quindi questa è una cosa che succede spesso in tante concessionarie non voglio difendere nessuno ma quando si parla con una certa tipologia di persone e tu gli vai a dire metti che becchi l'avvocato di turno o il puntiglioso le faccio una modifica signora vedrà che risolve il problema sulla scatola guida e questa crista qui a qualche problema voi avete finito di star bene quindi un conto è uno che mi dice vado dal meccanico generico che poi trovarlo di fiducia deve conoscere la macchina perché queste cose qua van bene quelli dei gruppi club che hanno tempo da perdere sono appassionati per loro la loro macchina è come se fosse sua moglie è meglio che si concentrassero un po di più sulla moglie o sulla fidanzata ma sono problemi loro non mi interessa giocano quindi finché si gioca è un discorso quando si lavora si mette una partita iva degli operai dei dipendenti dei collaboratori delle normative delle fatturazioni il discorso è completamente diverso io posso fare io non lo farei mai io posso fare una fattura come l'officina modifica lubrificazione ghiera servo sterzo ma questo caso succede qualcosa mi fa un culo così non lo farò mai io una cosa del genere quindi anzi io piuttosto non lo faccio nemmeno proprio di quale non te lo cambio nemmeno vai pure in concessionaria quindi ho voluto spiegare la differenza tra gli appassionati che è giusto che ci siano chi fa le modifiche e chi invece ha un'attività soprattutto una concessionaria che ha delle responsabilità grandissime nei confronti del cliente e già c'è da questionare quando va tutto bene figurati quando si fanno le modifiche spero di essere stato in aiuto a molti di voi con questa cosa ora ci sono due domande che possono aiutare e mi sono state fatte varie volte questa era carina allora a me per la domenica domanda veloce su iscrizione asi buongiorno mi chiamo dario abito tra treviso e venezia ti seguo da sempre faccio i miei classici complimenti domanda veloce su iscrizione asi dato che su internet non ne esco non trovo risposta chiara non ho tempo di andare in città a chiedere lumi in merito anche perché credo che non ne sappiano un chezzo trovo online qualche sito che dice che l'iscrizione asi si trascritta al libretto uno dura dieci anni poi va rinnovata non si sa precisamente come due si annulla all'atto di passaggio di proprietà cioè se io compro un veicolo asi ho il vantaggio del passaggio ridotto ma poi non è più asi a meno che non lo rifaccio la trafida dell'iscrizione asi spero di aver risposto perché devo comprare un veicolo asi devo iscriverne un altro già mio e non ci capisco una mazza allora tu hai poche idee e confuse allora innanzitutto chiariamo una cosa per avere il trasferimento di proprietà agevolato non c'entra nulla l'iscrizione asi perché il nostro amico renzi nella legge di stabilità del 2014 ha tolto l'agevolazione per i passaggi di proprietà questa cosa è successa alla fine del 2014 per le macchine iscritte asi prima di quel prima della legge di merda una macchina iscritta all'asi all'epoca non c'era l'iscrizione sul libretto c'era il cartoncino piccolo plastificato se si mostrava quello in sede di trasferimento di proprietà per autovetture superiori a 20 anni perché per essere iscritte all'asi devono avere compiuto 20 anni esibendo quello si pagava la tassa ridotta ora quello è stato eliminato per avere la tassa ridotta quindi la tassa fissa per il trasferimento di proprietà bisogna aver compiuto i 30 anni della macchina ok quindi se la macchina immatricolata a gennaio del 94 e io vado adesso a fare il passaggio proprietà è agevolato se la macchina immatricolata a giugno del 94 devo aspettare il mese di giugno deve aver compiuto 30 anni l'automobile ok e in quel caso non conta più quanti cavalli ha la macchina il trasferimento di proprietà non va più a kilowatt ma è una tassa fissa che varia dai 230 adesso dipende dall'agenzia ai 280 più o meno una cosa del genere comunque ed è una tassa fissa che sia una 1 o che sia un 360 modena ma quello no perché non è trentennale ma che sia un ferrari paga la stessa identica cifra quindi questa è la prima cosa allora domanda 1 dura 10 anni può aver rinnovato innanzitutto tu stai parlando di crs sul libretto perché la classica iscrizione asi non esiste più esiste il crs certificato di rilevanza storica che viene trascritto sul libretto se uno lo vuole fare e bisogna farlo perché adesso anche in regione lombardia è obbligatorio quindi c'è un costo da sostenere per trasferirlo sul libretto ma la macchina è come se avesse un impianto gpl quindi questa trafila viene riportata al pra e in motorizzazione quindi non è vero che scade rimarrà sempre sul libretto e se uno l'ha trasferito sul libretto quindi non ha il cartaceo in mano ma ce l'ha sul libretto il trattato adesso è addirittura digitale quindi non serve neanche più avere il cartaceo segue la macchina tutte le macchine nostre questo è serietà di azienda e anche un servizio top tutte le macchine nostre che non hanno compiuto 30 anni noi le consegniamo con il crs che hanno dai 20 ai 30 scusate noi le consegniamo con il crs già a libretto cosa vuol dire che il nuovo proprietario se in lombardia o emilia romagna già non paga il bollo se nelle altre regioni di competenza avrà gli sconti regionali in automatico perché se io ho una macchina che è iscritta all'asi io concessionario che bello prendo una macchina una macchina del 2002 è già iscritta asi me la in testo io pago il mio dini in esenzione bollo la compra pinco pallino gli dico ciccio guarda che la macchina è già iscritta asi devi solo fare la voltura a tuo nome lui mi dice cavoli che bravi questa concessionaria qui mi vende la macchina già iscritta asi no in realtà questa concessionaria è uno stronzo ok attenzione bene è il classico venditore come tutti questo venditore deve spendere due soldini quindi deve trasferire il crs a suo nome quindi a nome della concessionaria perché il vecchio crs è il nome del vecchio proprietario metterlo sul libretto e dopo venderti la macchina in quel caso lì tu hai l'agevolazione del bollo e la possibilità di assicurarla come macchina d'epoca perché già sul libretto se tu al momento dell'acquisto ti faccio il passaggio di proprietà a nome pinco pallino la macchina del 2002 quindi non ha oltre i 30 anni ma ne ha 22 e tu abiti in questo caso in veneto a uno sconto del 75 per cento ma non ha il crs sul libretto il bollo ti arriva direttamente tu dice cavoli lo faccio fra due mesi lo puoi fare se la macchina ha il bollo già pagato dal vecchio proprietario ma non credo sia così perché il vecchio proprietario gliela venduta al concessionario è scritta all'asi quindi dubito che abbia pagato il bollo dubito fortemente che abbia pagato il bollo secondo me non l'ha pagato giustamente è scritta all'asi quindi a te che sei bello e serafico ti arriva immediatamente il bollo da pagare noi abbiamo venduto una maserati molto bella una maserati gt nera ai miei amici della casa della chiave a roberto io potevo vendergli la macchina tranquillamente e dire roberto iscrivila all'asi e sei tranquillo io ho iscritto la macchina all'asi io ho fatto il crs a nome di gasi ho messo il crs sul libretto perché il crs sul libretto non è nominativo ma ci viene ma viene riportato annotazione storicità vettura una cosa del genere non c'è scritto chi l'ha fatto sul libretto nel momento del passaggio già c'era scritto sul libretto che la macchina era storica lui non ha pagato il bollo è andato in agenza in all'aci penso non so e ha pagato di il bollo scontato del 75 per cento perché nella ragione veneto non sono al cento per cento ma sono al 75 per cento quindi lui al posto che 1200 euro di bollo ne ha pagati 300 adesso non lo so quel cavolo che è la 4 turbo che ben venduta l'ha comprata un signore gentilissimo di verona stesso identico discorso la macchina aveva il crs sul libretto fatto da noi a me non me ne poteva fregare niente dicevo guarda la macchina è iscrivibile a si oppure già iscritta a si sei a posto no non sei a posto di un cats quindi questa che vi ho raccontato è l'unica procedura giusta e corretta qual è il problema i signori venditori si devono sbattere ed è una cosa che non fa praticamente nessuno perché è un costo iscriversi a un club come come società ha un costo molto più alto che come privato i crs come società hanno un costo molto più alto che come privato ma è un servizio bello che si dà al cliente punto seconda domanda si annulla l'atto di passaggio di proprietà cioè se io compro un veicolo asi ho il vantaggio del passaggio ridotto ma poi non è più asi penso di averti risposto a tutto non si annulla assolutamente se c'è il crs sul libretto tu puoi fare anche un passaggio di proprietà il giorno dopo verrà trascritto alla nuova persona a me è capitato una sola volta un signore tra l'altro un ragazzo che mi sta seguendo sicuramente che saluto tanto ho comprato un gtv da lui che era abitava in provincia di genova la macchina aveva già il crs sul libretto quindi in quel caso io non ho dovuto fare nulla aveva già la storicità sul libretto io ho fatto il dini a nome mio eri stato riportato il crs sul libretto l'ho venduta all'altra persona crs ancora sul libretto quindi è rimasto dove era e quella persona poi l'ha comprato un altro ancora quindi quattro passaggi è sempre rimasto lì bisogna trasferire il crs sul libretto chiudiamo andiamo sempre lunghi ragazzi ciao gavile mi chiamo lorenzo vivo in provincia di reggio emilia guardo tutti i tuoi video sia quelli di officina che quelli della domenica perché con te si impara sempre qualcosa di nuovo non mi dilungo nei commenti ti vorrei fare una domanda sperando che tu possa rispondere pochi giorni fa nella cooperativa dove lavoro hanno consegnato il gasolio per i vari mezzi della cooperativa compattatori per rifiuti mezzi per consegni eccetera e hanno fatto mettere all'interno della cistena del gasolio una certa quantità di olio motore 10 litri di olio per ogni mille di gasolio perché così i motori saranno più lubrificati e quindi dureranno di più tu cosa ne pensi è vero io speravo io sapevo che una volta quando non c'era il gasolio invernale si aggiungeva un po di benzina per far partire meglio i mezzi questa cosa dell'olio non l'avevo mai saputa spero che tu mi risponderai un mezzo salute buono no un saluto senza mezzo un salute buona fortuna te al tuo staff sono perfettamente d'accordo nelle macchine nuove 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 è meglio aggiungerne una punta ma 10 litri in mille di gasolio in mezzi industriali vanno da dio voi non capite l'olio quanto lubrifichi le pompe di iniezione io ora non voglio dire una cosa perché non voglio scaturire i leoni da tastiera ma vi posso garantire che ci sono delle pompe che sono delicate anche di macchine vecchie aggiungendo periodicamente nel gasolio una certa quantità minima naturalmente di olio motore questi problemi non si sviluppano più quindi è una cosa che io faccio spesso certo ragazzi si sta parlando di un bicchiere ma anche nella benzina soprattutto questa cosa si usava nell'iniezione k non è uno sbaglio l'olio è vita e lui adesso chiaramente nella benzina dice cavoli in 60 litri di benzina si parla di un bicchiere mezzo bicchiere quindi non è che la macchina deve fumare azzurro naturalmente ma vi posso garantire che l'olio lubrifica tantissimo non avete idea quindi questa è una cosa giustissima ci hanno visto molto molto lungo il discorso della benzina nel periodo invernale è vero perché gela la paraffina del gasolio e la benzina praticamente fa sì che possano possa durare un po di più quindi deve raggiungere temperature più basse per gelare ma non è che la fa partire meglio praticamente rende più detto in due parole un po più liquido il gasolio a freddo e permette di raggiungere temperature più rigide per poterlo far gelare quindi se prima gelava sto sparando meno 10 con un po di gasolio un po di benzina poca ne perché dopo fa altri danni gela meno 15 ma la benzina fa l'effetto opposto al mettere dentro l'olio quindi la benzina non lubrifica grippa quindi un po di benzina e soprattutto un goccio d'olio per cercare di sopperire a quello che ha tolto la benzina ma il discorso dell'olio il gasolio è una gran cosa mando un abbraccio a tutti un augurio di buona pasqua vi raccomando la mail per la diretta di venerdì gabriele chioccio lagasi automobili punto it mi mando un abbraccione grazie a tutti fatemi sapere se vi è piaciuto questo video perché in questa giornata che la vedranno in pochi perché molti saranno impegnati nel pranzo pasquale abbiamo trattato temi molto molto importanti un abbraccio a tutti ciao ciao